Davvero senti il mare da qui? Sì, a volte la mattina presto, sì, c'è la brezza e c'è la finestra aperta, sì, lo sento come se fosse proprio qui. Certo che hai un buon olfatto. Sì, l'odore è probabilmente la cosa che mi provoca le sensazioni più intense, no? È più fantasia. Il tuo odore, per esempio. Il mio odore? Sì, è la prima cosa che immagino quando faccio dei sogni su di te. Continua. E che c'è dentro questi sogni? Molte cose. Ma ne hanno una in comune. In tutti posso muovermi. Così mi alzo e vado fino a dove penso tu sia in quel momento. E se immagino che tu sia qui, per esempio, beh, semplicemente mi avvicino a te e faccio quello che tante volte ho desiderato fare. Allora il tuo odore diventa più forte e mi stordisce. Sento il tuo palpito. E poi sento le tue mani. E lì perdo la testa. Lì perdo la testa. E lì perdo la testa.